Le notizie servono per investire in modo redditizio? Sì, ma solo se le leggete al contrario. Fra due secondi ti spiego perché. Ben trovati, lo chiamavano SAVER, pilole di educazione finanziaria, con in bonus un corso gratuito per imparare a investire che trovi qua sotto nel link in descrizione. Molte persone seguono le notizie pensando in qualche modo di sfruttare i mercati facendo questa attività. Io mi informo, leggo tante cose e di conseguenza sono bravo nel gestire i miei soldi. La verità è che le cose non funzionano così, per un motivo piuttosto semplice. I mercati scontano già le notizie che voi leggete sui giornali. Se parliamo di efficienza semiforte di mercati finanziari, che secondo noi è la forma più diffusa, quella in cui i mercati si muovono per la maggior parte del tempo, noterete che tutte le notizie che voi scoprite sono già in qualche modo scontate. Questo cosa vuol dire? Che quando comperate un ETF sull'intelligenza artificiale pensando che il business del futuro sarà quello, milioni di persone l'hanno fatto prima di voi. E voi peraltro vi fate attrarre da performance passate positive e così facendo comprate sui massimi. Invece, per citare un altro esempio di cui ho parlato in una puntata del podcast che trovate sempre sul mio canale YouTube, i real estate hanno fatto il contrario. Le notizie su real estate sono molto negative e quindi il mercato le ha già scontate. Ha già scontato che lo smart working ha richiesto meno domanda di soluzioni commerciali, barra industriali, perché i capannoni non si usano più, la gente lavora da casa. Ha scontato il fatto che la diminuzione delle natalità richiederà meno esigenze abitative e così via. Voi capite che in questo caso le notizie negative sono importanti, perché il mercato sta scontando scenari così pessimistici che verosimilmente non si realizzeranno. Quindi investite laddove le notizie sono molto negative. Ovviamente fate attenzione a cosa comprate, ma ricordate John Templeton che diceva quando la gente mi chiede quale sia il settore che ha maggiori prospettive, mi fa la domanda sbagliata. La verità è, dovete chiedermi e chiedervi qual è il settore che invece presenta le peggiori prospettive, perché lì c'è valore. Grazie per l'attenzione, noi ci vediamo martedì. Buona settimana e buon investimento a tutti.